C'hai rovinato a tutti Gianni Morali, c'hai rovinato a tutti, non ci fai fare una vecchiaia serena, perché tutti seguiamo te, volevo dire Gianni Morali, a fare tutti i simpatici, a fare tutti i giovani sui social, invece no, dobbiamo fare venti, non è che tutti possiamo avere la forza che c'è Gianni Morali, non ci sta, capisci Gianni? Io non so di cosa ti cibi, tu i fagioli che Conti lì in campagna da te, che cosa c'hanno dentro, perché non ti fermi mai, sempre questo volare, fammi volare, fammi volare, eh, non va bene, calmati Gianni, calmati, fai come gli altri della tua età, che ne so, uno, Carlo Conti, vedi? Beh, è anziano e fa l'anziano Ma no Fiore, è tutta una finta, è un'applicazione di Facebook, che mi fa sembrare giovane, sportivo, ma la realtà è un'altra, guarda cosa devo fare, guarda quante pillole devo prendere tutti i giorni, sono qui davanti alla televisione, tanto per tutti i film